Sono felice di presentarvi gli amici di OroSpin qua nella mia cucina per portarvi in tavola tanta salute, tanto colore e ovviamente tanta funzionalità che ci può offrire il mondo di frutta e verdura 100% italiana. Questa è poi la cosa più bella e buona direi in assoluto. Allora, per la primavera, estate ho scelto i finocchi ovviamente, ricchi di fibre, ricchi di acqua, la rucola ricchissima di vitamina C e di calcio, una cosa che magari uno non si aspetta mai. E poi insomma, il mondo di frutta e verdura si colora anche per quello che è autunno e inverno. È un po' come un cappotto che dobbiamo cambiare durante la stagione. Ecco, anche frutta e verdura ci può aiutare in questo proprio perché ad ogni stagione frutta e verdura ci regalano una funzionalità particolare che ovviamente agisce direttamente sul nostro corpo. Per cosa? Le facci sentire meglio.